Dopo l'attentato alla macchina del sindaco Fabio Scionti con una cittadina ripiombata nella paura degli anni passati, quando la politica veniva intimidita anche dal tritolo, gli era arrivato il messaggio di Fabio Scionti che attraverso una nota stampa del Comune esprime profonda gratitudine per gli innumerevoli messaggi di solidarietà e di affetto che ha ricevuto in questo momento di grave attenzione. Un ringraziamento, dice il primo cittadino, sentito. Voglio inoltre rivolgere alla Prefettura, alla Procura e alle Forze dell'Ordine che stanno indagando sull'accaduto con grande professionalità e che hanno manifestato il loro sostegno e la loro vicinanza nei miei confronti. Quest'atto, e questo il passaggio saliente che fa il primo cittadino, perpetrato con via Chieria, ha sicuramente turbato la mia tranquillità, dice, ma non ha intaccato la mia volontà di lavorare per la comunità che un anno e mezzo fa mi ha scelto alla guida della città. Le attestazioni di solidarietà che ho ricevuto dai miei concittadini, aggiunge ancora Scionti, sono per me un messaggio di speranza, sono il segno tangibile che il cambiamento che questa città merita è possibile, ed è possibile attraverso un'azione quotidiana e collettiva incentrata sul rispetto delle regole. Amministrare un comune in maniera trasparente, lavorare per la propria comunità, non è un'attività straordinaria, è un dovere che bisogna esercitare con senso di responsabilità. Il mio augurio, conclude il sindaco, è che la comunità taurionovese, in virtù dell'azione portata avanti dall'amministrazione comunale che rappresento, colga un'importante occasione di rinascita civile, sociale e culturale. Nel frattempo domani dovrebbe arrivare a sostenere il sindaco Fabio Scionti anche il vice di Renzi, Matteo Richetti, con il segretario regionale del Partito Democratico calabrese, Ernesto Magorno, e nel corso della processione che si terrà domani nel pomeriggio alle 17 della Madonna della Montagna dovrebbe arrivare anche la solidarietà dei sindaci rappresentati nell'Associazione Città degli Ulivi, i quali dovrebbero sfilare al fianco del sindaco Scionti.